L'audienza del mercoledì quest'oggi in piazza San Pietro per Papa Francesco che ha proseguito il suo ciclo di catechesi sulla misericordia nella prospettiva biblica. Allora andiamo subito ad ascoltare le parole del Papa in questo stralcio tratto dall'audienza di questa mattina. Nella Sacra Scrittura la misericordia di Dio è presente lunga tutta la storia del popolo di Israele. Con la sua misericordia il Signore accompagna il cammino dei patriarchi, dona loro dei figli malgrado la condizione di sterilità, li conduce per sentieri di grazia e di riconciliazione, come dimostra la storia di Giuseppe e dei suoi fratelli. Penso a tanti fratelli che sono allontanati in una famiglia e non si parlano. Ma quest'anno della misericordia è una buona occasione per ritrovarsi, abbracciarsi e perdonarsi, dimenticare le cose brutte. Il Dio di misericordia risponde e si prende cura dai poveri, di coloro che gridano la loro disperazione. Dio ascolta e interviene per salvare, suscitando uomini capaci di sentire il gemito della sofferenza e di operare in favore degli oppressi. In quest'anno della misericordia possiamo fare questo lavoro di essere mediatori di misericordia, con le opere di misericordia, per avvicinare, per dare sollievo, per fare unità. Tante cose buone si possono fare. E' tutto il contrario dell'opera di quelli che agiscono sempre per uccidere. Per esempio, quelli che fanno le guerre.